Buongiorno a tutti! Eccoci qua! Problema di questa polmonite che viene dalla Cina. Beh, sapete che c'è arrivata una circolare del ministero, quindi non è una roba letta sui giornali. È un vero allarme, fra virgolette, una segnalazione sanitaria, perché sono stati rilevati nel nord della Cina molti casi di una broncopolmonite, quindi di infezione bronchiale polmonare bassa, da un microbo che si chiama micoplasma. Il micoplasma non è una novità nei nostri studi, lo conosciamo molto bene, perché può dare vari tipi di infezioni, tutte più o meno polmonari, ok? E sappiamo che si cura con una certa categoria di antibiotici, quindi noi sappiamo già che per esempio certe fasce d'età, quelle del bambino più grandetto, o certi quadri che sono sfumati in cui c'è magari un po' di fischio insieme, noi sappiamo che dobbiamo dare un certo tipo di antibiotico piuttosto che un altro, perché può essere il micoplasma. Quindi qual è la particolarità di questa notizia? Perché se no, che notizia è? È un microbo che c'è sempre stato? Beh, la particolarità è che in quella zona è successo a tantissimi bambini tutti insieme. Ora, a capire perché questo è successo, si può pensare che i bambini siano stati molto più isolati con l'emergenza Covid rispetto a quello che sono stati qua da noi. L'anno scorso noi abbiamo visto molti più bambini ammalati rispetto agli altri anni, in periodi anomali. Perché? Perché il loro sistema immunitario non era più allenato e perché si è stati per un periodo in cui c'era solo coronavirus e tutti gli altri virus erano stati spazzati via. Può darsi che questa situazione in Cina sia stata prolungata per più tempo, no? Perché le misure di questa emergenza sono state prolungate. Altra cosa, possono essere stati usati molti antibiotici di quella famiglia per curare l'infezione da Covid perché sembrava che questo antibiotico avesse anche un'azione antinfiammatoria, quindi per un periodo era stato usato molto e quindi si siano create delle resistenze. L'azitromicina per capirci, l'azitromicina l'hanno presa tutti perché hanno detto ah serve perché disinfiamma pure anche il Covid, il Covid è un virus quindi figuratevi cosa ha curato, zero. Però usala oggi, usala domani su ampi fasce di popolazione, alla fine stai in qualche modo selezionando il microbo che impara a non morire con quel farmaco lì. Quindi la cosa particolare è che sembra che l'azitromicina in questi farmaci e in questi casi di polmonite non sia un farmaco adatto. va bene, quando arriverà ci penseremo. Ma abbiamo anche altri microlidi, cioè di questa famiglia che cura il microplasma non c'è solo l'azitromicina. Certo, mentre contro i virus siamo abbastanza disarbati, contro i batteri insomma perché briscola l'abbiamo, quindi ecco l'ambulanza che arriva testimonia come dire il pronto intervento della sanità. Non allarmiamoci, ok? Le autorità sanitarie hanno il dovere di innescare allarmi o quantomeno segnalazioni. Noi però non facciamo sviluppare l'incendio. Per il momento non c'è nessuna ragione di allarmarsi per un'altra pandemia.